Salve a tutti, iniziamo oggi con una nuova scoperta, problema dell'Astri, gli altri, leggiamo, Ariette, Ariette, oggi sarà una bella giornata a Maffè 67, salvo, Toro, oggi guarderei e tante felicità per andare in pizzeria all'aggregatorio, ho fammati io, due mesi, oggi sarà un inizio di una settimana, fantastico, perché usciremo tutti con i cestetti a cercare il segoso, cioè domani, cancro, oggi andrete al mare a trovare un bel canchio, oggi troverete un bel canchio, leone, la giornata di oggi per avere caldo, è lei che è in queste ore, portatevi la scuola mano, bilancia, bilancia, stasera si prevede giochi a precette, preparati il tuo segno che voglio giocherarti io, scorpione, scorpione, ciao, oggi si comincia a scrivere un copione, grazie perché finalmente posso imparare io da te a scrivere qualcosa, sagittario, che vergogna, perché non mi hai detto niente, che dovevi ascoltare la musica di Tattoo, vergine, ehi, domani a casa ci saranno a cena le regine, ho fame, capricorno, oggi mangerete la pizza al forno, posso venire anche io, acquario, domani c'è una festa, aio, dai, tutti invitati, dai, io porto l'acqua e il rio chi lo porta a casa mia, 12 pesci in riva al mare, nuotano felici, senza denti, tu cosa fai, esci o no? Grazie, la tua soddisfazione è sempre il nostro miglior premio, e ricordate che è sempre bello ascoltare tutto, fare musica, eccetera, però ricordatevi una cosa, che l'oroscopo è un gran bel, la felicità.